Ha suscitato dolore e incredulità all'Aquila la morte di Paolo Greco, 37enne aquilano, originario di Pianelle, una frazione del comune di Tornimparte. Il giovane, con la passione del ciclismo e delle biciclette, è morto investito da un'auto in provincia di Modena, in Emilia, dove si era trasferito da qualche tempo per lavoro. Un ragazzo solare e di compagnia, che amava tornare a casa all'Aquila e al paese, dove aveva tutti gli amici di sempre, che ora non si danno pace. Paolo Greco è stato tamponato da un'auto, secondo le prime ricostruzioni, che procedeva nella sua stessa direzione. Dopo un volo di parecchi metri, sarebbe caduto rovinosamente a terra. La comunità di Tornimparte si è stretta attorno alla sua famiglia. Tantissimi sono stati i messaggi di affetto e cordoglio della città per questo sfortunato ragazzo sulle due ruote, amato e apprezzato da tutti.